e con lo spirito santo in noi diventeremo vivente e vivente e vivente meraviglioso signore veniamo a te nel nome di Gesù Ciao cari, eccoci di nuovo per un altro programma di Per Lodare Te perché vogliamo dire al Signore Dio nostro noi ti adoriamo, noi ti lodiamo, noi ti amiamo e noi vogliamo che tutta la nostra vita potesse lodare te e questa trasmissione Signore è Per Lodare Te Oh cari mie, quanto vorrei che tutti noi potessimo in ogni istante della nostra vita sentire la presenza del Signore tramite il suo Spirito Santo nella nostra vita in modo che potessimo veramente essere quegli strumenti che Egli desidera che noi siamo in modo che la nostra vita potesse essere veramente una epistola vivente in modo che gli altri potrebbero leggerci e vedere che in noi c'è qualcosa di diverso in noi c'è qualcosa che loro non hanno mai sperimentato nella loro vita in noi c'è il Signore Gesù Cristo che ama loro quanto amava noi e vorrebbe che anche tutti loro avessero l'opportunità di sperimentare cosa significa avere dentro di te, insieme a te, Dio stesso, lo Spirito Santo che è presente, potente e desidera in ogni istante della nostra vita di aiutarci ad essere forti, di aiutarci ad andare avanti, di aiutarci ad essere più di ciò che potremo essere soltanto da soli questo è il nostro Dio e questa è la ragione perché noi facciamo anche queste trasmissioni perché esiste la televisione cristiana in Italia perché desideriamo che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo per chi vuole sintonizzare su questo canale televisivo riuscirà ad ascoltare la voce di un'altra persona che dice quanto innamorato o innamorata di Dio e quanto Dio vuole cambiare anche la loro vita ecco perché esiste la TCI perché così persone come voi in un momento veramente necessario nella vostra vita un momento difficile soltanto accendendo la televisione potete avere tramite la parola di Dio la risposta per la vostra vita Gesù è amore Gesù ha voluto sempre che la gente sentisse il suo amore ma Gesù è anche corretto Gesù è anche Dio e Gesù vuole sempre che le cose siano giuste e corrette e quando non sono giuste e corrette non è uno timido che sta lì dietro dicendo vorrei che non lo facessi queste cose no, questo non è il nostro Dio Lui è molto chiaro è molto forte ma è pieno di amore e se lo fa una cosa anche con un po' di forza è perché ci ama e vuole che noi comprendiamo che ciò che stiamo facendo in quel momento non è per il nostro bene è per il nostro male e vuole proteggere anche i suoi non vuole che i suoi debbano subire le cose scorrette di questo mondo nemmeno nella Chiesa nemmeno nel Tempio di Dio un giorno Gesù entrava nel Tempio nella Sinagoga e entrando ha dovuto affrontare una situazione che forse anche oggi in alcune Chiese alcune altre Sinagoghe succedono le stesse cose ma in questo momento Gesù non si è lasciato andare senza dire qualcosa senza fare qualcosa senza diventare perfino fisicamente forte con le cose che ha trovato perché erano cose così contrarie a ciò che egli desiderava ciò che la Sinagoga il Tempio di Dio fosse lì per fare che ha reagito ha reagito anche con ira ma non ira come noi uomini abbiamo l'ira ma l'ira santa perché aveva ira per correggere coloro che andavano contro le cose di Dio se avete la vostra Bibbia leggete insieme a noi nel Vangelo secondo Luca il capitolo 19 iniziando con il versetto 45 voglio che noi tutti immaginiamo in questo momento Gesù lì insieme al suo popolo che entra nella Sinagoga nel Tempio e poi trova quello che ha trovato vediamo come è reagito e come dobbiamo pensare noi a reagire se troviamo le cose che sono contrarie a Dio l'amore non è soltanto essere gentili e bravi ma è anche indicare ciò che è sbagliato essere anche fermi quando una cosa è sbagliata e non giusta altrimenti non è amore vero è compromesso capitolo 19 versetto 45 poi entrato nel Tempio cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e compravano possiamo immaginare che Gesù il figlio di Dio entra nel Tempio che è il Tempio di suo padre Dio e nel Tempio lui trova un mercato c'erano quelli che vendevano quelli che compravano non avevano nessuna volontà nessuna idea di essere lì per adorare Dio per glorificare il loro Dio per conoscere meglio la sua parola erano lì alcuni per vendere e per approfittarsene di coloro che avevano dei bisogni e chissà quanti hanno venduto delle cose per un prezzo veramente estremo e alcuni perché dicevano ma questi sono nel Tempio allora devono essere i miei fratelli non farebbero qualcosa per prendere da me più di quanto dovrebbero prendere ma Gesù ha capito bene e poi li ha descritti anche giustamente dicendolo loro Gesù sta scritto la mia casa è casa di preghiera ma voi ne avete fatto un covo di ladroni perciò se Gesù ha riconosciuto che non soltanto vendevano e compravano ma coloro che vendevano erano dei ladroni e come avrebbero potuto quei ladroni quei che vendevano come avrebbero potuto essere nel Tempio se non gli era permesso a fare e chissà quanti dei sacerdoti dei farisei avevano anche loro una loro provigione di quello che loro guadagnavano sta scritto che la mia casa è casa di preghiera di preghiera non dei ladroni e ogni giorno egli Gesù insegnava nel Tempio e i capi dei sacerdoti gli iscrivi e i capi del popolo cercavano di farlo morire lui aveva interrotto un processo che per loro era un vantaggio loro diventavano più ricchi e Gesù aveva interrotto questo processo e allora cosa volevano fare? volevano non solo essere ladroni volevano anche ucciderlo e non volevano sentire ciò che lui aveva da dire ma non riuscivano a decidere che cosa fare perché tutto il popolo ascoltate tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra dici di più oh Gesù non abbiamo mai sentito nessuno parlare come te vogliamo saperne di più continua Gesù parla perché riceviamo così tanto quando parli tu parla Gesù loro pendevano dalle parole che uscivano dalle sue labbra e gli altri volevano ucciderlo e in uno di quei giorni avvene che mentre egli istruiva il popolo nel tempio e predicava l'evangelo sopraggiungero i capi dei sacerdoti e gli scrivi e gli anziani e gli dissero dici con quale autorità fai queste cose e chi è colui che ti ha dato questa autorità ed egli rispondendo disse loro anche io vi domanderò una cosa e voi rispondetemi il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini ed essi ragionavano fra loro dicendo se diciamo dal cielo egli ci dirà allora perché dunque non gli avete creduto se invece diciamo dagli uomini tutto il popolo ci lapiderà perché è convinto che Giovanni era un profeta risposero dunque che non sapevano da dove venisse loro avevano la loro idea sapevano quello che pensavano credevano che veniva dagli uomini e non dal cielo ma non non abbiano avuto il coraggio di dirlo e hanno mentito dicendo che non sapevano allora Gesù disse loro neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose vediamo qui loro dicevano che non sapevano Gesù non è detto che non sapeva ha detto io non vi dirò perché voi non mi credereste nemmeno ma noi sì noi ti crediamo Gesù e noi ti ringraziamo per la tua parola e ti ringraziamo che tu vuoi che la nostra vita nella chiesa nel tempio di Dio fosse una vita giusta una vita da veri cristiani una vita da coloro che vorrebbero aiutare gli uni gli altri e amare gli uni gli altri e non per approfittarsi gli uni dagli altri oh Signore aiutaci ad imparare dalla tua parola in modo che noi non diventiamo come quei ladroni in modo che noi non abbiamo nel nostro cuore la bugia e rifiutiamo di capire e di dire la verità tornando ai versetti 37 38 e 39 del capitolo 19 di Luca noi vediamo che Gesù sta scendendo dal monte degli olivi e c'è una grande folla che lo segue lodando Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano visto compiere a Gesù e dicevano benedetto colui che viene nel nome del Signore e pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli insomma lo osannano e innalzano Gesù allora cosa fanno i farisei al versetto 39 gli dicono maestro rimprovera i tuoi discepoli perché per loro quella manifestazione di gioia e quell'onorare Gesù era qualcosa di esagerato di fuori luogo allora maestro rimprovera i tuoi discepoli digli di tacere e Gesù risponde io vi dico che se tacciono loro saranno le pietre a gridare quindi era inevitabile che quel grido di esultanza fosse rivolto a Gesù perché Gesù era veramente il re che passava allora poi vediamo cosa succede che Gesù entra nel tempio e lì c'è un altro tipo di rumore ed è il mercato che si sta svolgendo dentro il tempio e Gesù non sgrida i discepoli che esultano di gioia ma sgrida i venditori e i compratori che hanno fatto come abbiamo ascoltato della casa di Dio invece di un luogo di preghiera hanno fatto un luogo di mercato dove gridavano noi tutti andiamo al mercato sappiamo cosa succede ognuno dalla propria bancarella cerca di gridare più fortemente per farsi notare e cerca di dare anche un prezzo più favorevole in modo da vendere più degli altri quindi è un vociare un gridare che non deve esistere nel tempio nel luogo di preghiera ma Gesù perché dice così dice anche sta scritto come abbiamo ascoltato la mia casa sarà casa di preghiera e voi invece ne avete fatto un covo di ladri se noi andiamo dal profeta Isaia Isaia 56 al versetto 7 il profeta dice li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera i loro olocausti i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli allora Dio gradiva i sacrifici in quel momento ma non gradiva il mercato che c'era dietro ai sacrifici ma perché è nato questo mercato lì al tempio siccome i popoli la gente veniva da luoghi lontani allora per evitare di portare con loro nel viaggio gli animali perché tutto diventava più difficile più faticoso e più lento pensavano bene ok arrivati sul posto li acquisteremo lì e i venditori come diceva anche prima Shach ne approfittavano di tutto questo è vero che rendevano alla gente un beneficio ma quanto glielo facevano pagare quel beneficio per questo Gesù li chiama ladri perché se loro l'avessero fatto nel modo dovuto per servire il popolo Dio l'avrebbe gradito ma è il modo con cui veniva fatto tutto questo era non gradito a Dio e per questo Gesù li ha rimproverati ha detto siete dei ladri ne state approfittando e state distraendo la gente la gente non può gioire la gente entra nel tempio già amareggiata perché si è sentita derubata lì nel luogo santo di Dio avvenivano furti entrava amareggiata e come abbiamo sentito dal profeta Isaia invece nel cuore di Dio cosa c'era? c'era quello di creare un luogo dove i popoli tutti i popoli senza distinzione sarebbero potuti andare e gioire alla presenza di Dio tutto questo cari cosa ci fa pensare se lo riportiamo ai nostri tempi ai mercati che ci sono nelle nostre chiese come lo ha detto anche Chuck prima lo voglio ricordare ci sono dei mercati sì perché è vero tutti noi abbiamo bisogno di portare avanti i nostri ministeri la nostra tv tutti abbiamo bisogno e tutti siamo chiamati anche a chiedere perché Dio vuole che noi chiediamo e che il Vangelo venga sostenuto lo leggeremo poi in un altro passo Dio vuole tutto questo ma in che modo in che misura e qual è il luogo adatto per fare tutto questo? ci sono dei luoghi adatti non certo dentro il Tempio Santo dobbiamo separare le due cose per non creare confusione per non creare scandalo non dimentichiamo che molti e hanno ragione si scandalizzano quando vedono il mercato dentro le cose di Dio si scandalizzano e poi giudicano tutti allo stesso modo evitiamo di fare mercati noi ormai sappiamo sapete lo diciamo più volte è da 40 anni che mandiamo mi metto anch'io avanti questo ministerio e per 40 anni non abbiamo voluto e ancora non vogliamo portare dentro il palinzesto le pubblicità qualcuno ci critica per questo perché dicono ma invece di stare lì a chiedere sempre l'aiuto economico ma perché non inserite delle pubblicità come fanno tutti gli altri canali televisivi e così potete mantenervi e non disturbate la gente chiedendo soldi non lo vogliamo fare per quello stesso motivo perché non vogliamo portare il mercato del mondo dentro un canale che noi riteniamo santo perché per noi questo canale per il fatto che si parla di Dio si predica la parola per il fatto che sentiamo con tutta la certezza e la verità che c'è nel nostro cuore che qui c'è lo spirito santo noi non vogliamo portare mercati è vero ci sono pubblicità pulite tra virgolette potremmo proporre non so delle poltrone per gli anziani o chissà delle vasche con gli sportelli come vediamo negli altri canali sarebbero cose anche utili per gli anziani ma noi non lo vogliamo fare cari non lo vogliamo fare perché noi vogliamo dare agli anziani e a tutta la gente che ci segue la cosa più importante che ci sia ed è la sua parola siamo chiamati a fare questo e vogliamo fare questo il mercato rimarrà fuori dalla TCE se dobbiamo pubblicizzare qualcosa pubblicizziamo eventi evangelistici libri cristiani musica cristiana ma nient'altro solo ciò che può fare bene a coloro che ci ascoltano ma soprattutto bene allo spirito vi ricordate cosa disse Gesù e cosa dice la scrittura anche nel Vecchio Testamento che non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio noi non vogliamo portare alla gente come dicevo prima delle pubblicità che possano anche servire in qualche modo alla vita di tutti coloro che ci ascoltano ma noi vogliamo portare il pane spirituale ciò che nutre l'animo e lo spirito e ciò che ci può servire ci serve veramente nella vita e che non troviamo negli altri canali o in altri posti se non nelle chiese perciò noi vogliamo a tutti i costi fare la volontà di Dio andare evangelizzare la gente predicare la parola e non fare di questo luogo un luogo di mercato non lo è e se chiediamo il vostro aiuto è per una giusta causa perché veramente abbiamo bisogno ve lo vogliamo ricordare sempre abbiamo bisogno del vostro sostegno economico e non chiediamo tanto noi chiediamo anche delle piccole somme però chiediamo a tutti perché se siamo in tanti il peso diventa minimo l'offerta che chiediamo è minima e noi possiamo portare avanti la televisione cristiana in Italia primo per obbedire a Dio che ci ha mandati a fare questo e poi anche per fare felici molti di voi perché sappiamo non passa un giorno in cui voi non ci diciate grazie per quest'opera benedetta grazie per quello che fate perché veramente grazie a quest'opera grazie alla televisione cristiana in Italia la mia vita è cambiata sono cresciuto o sono cresciuta spiritualmente conosco meglio la parola ho il desiderio di conoscere di più Gesù di amare di più Gesù lo dite voi cari ed è la verità perché la parola di Dio ascoltata messa in pratica porta dei frutti porta frutti di guarigione porta frutti di liberazione porta frutti di crescita spirituale e come ha detto Jack mi è piaciuto quando ha detto che Gesù non ha un carattere così debole Gesù ha un carattere forte Gesù non ha avuto paura di dire la verità e di chiamare per nome ogni cosa non ha avuto paura di dire a quella gente siete dei ladri siete dei ladri e noi non dobbiamo avere paura quando nel nostro cammino troviamo fratelli che rubano o che fanno delle cose illegali non abbiamo non dobbiamo avere paura di dire siete dei ladri io questa paura non ce l'ho ultimamente ad una persona che si ritiene un pastore io ho scritto siete dei ladri perché fanno delle cose che davanti a Dio non dovrebbero fare è facile predicare agli altri è un po' più difficile essere onesti quando nessuno ci vede lì è più difficile però ricordiamoci una cosa cari i fratelli possono anche non vederci ma Dio ci vede e un giorno Dio ci dirà siete stati dei ladri siete stati dei bugiardi oppure ci dirà venite benedetti dal Padre mio perché avete fatto tutto quello che vi è stato chiesto venite questo momento arriverà per tutti cari e allora se non vogliamo essere svergognati dal nostro Signore dal nostro Salvatore dal nostro giusto giudice cerchiamo di metterci in regola fin da ora facciamoci trovare come quella folla festante che onorava Gesù e che gli diceva benedetto colui che viene nel nome del Signore e i farisei che ci sono anche oggi cercavano di zittirli ma non zittivano quelli del mercato quelli che gridavano per vendere la loro merce non li zittivano per questo Gesù è intervenuto ha detto volete che io sgridi qualcuno bene non sgriderò i miei discepoli che stanno facendo la volontà di Dio sgriderò i vostri che stanno facendo qualcosa che Dio non vuole quelli sì che li sgriderò e lo fece prendiamo esempio da Gesù e cerchiamo di essere corretti onesti irreprensibili per poter riprendere coloro che sbagliano così facendo saremo graditi a Dio e assomiglieremo sempre di più a Gesù Amen 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 Adesso vogliamo insieme a voi intercedere per tante persone persone che sono indicate nelle richieste di preghiera che riceviamo noi ma anche quelle che avete voi nei vostri cuori di innalzare al Signore voglio leggere alcune di queste che ho in mano e poi invitarvi di pregare con noi di intercedere con noi per tutte le persone che hanno bisogno che sono state rappresentate con le richieste di preghiera come questa persona questa richiesta da Alessandra per il suo cugino che sta vivendo un momento molto difficile una persona anonima per Claudio e Giordanina che hanno perso una bimba appena nata e possiamo immaginare quali dolori hanno in questo momento e vogliamo sostenerle con i nostri preghiere Rosalia per guarigione a Lanca e per Giuseppe il suo lavoro Umberto per una donna bisognosa una persona anonima per una sua carra amica una donna di Dio malata di cancro al fegato anche voi indicate le vostre richieste unitevi con noi e preghiamo tutti insieme senza dubitare ok Alleluia Papà Padre Dio nostro grazie per questo nuovo privilegio e opportunità di presentarci io e Pina e coloro che sono uniti con noi in questa preghiera davanti a te nel nome di Gesù e grazie Padre che possiamo portare tutte le persone che sono state indicate nelle richieste ricevute da noi e quelle che sono innalzate a te in questo momento possiamo portarle a te con ogni loro bisogno con ogni necessità con ogni richiesta sapendo che tu hai una risposta perfetta per ogni persona ed è quello che chiediamo Signore la tua risposta perfetta per la salvezza per la liberazione per la guarigione per l'aiuto finanziario per l'aiuto nelle famiglie per il battesimo nello Spirito Santo per tutti coloro che abbiano bisogno Padre grazie nel nome di Gesù Amen Amen Dio vi benedica grandemente la sua pace e resti sempre con tutti voi per adesso ciao da Chuck e Pina ciao ciao Sous-titrage ST' 501